Ospite di oggi Dino Rinaldi in corsa per il Parlamento Europeo sotto le insegne di più Europa, perché questa scelta? Dunque io faccio il professore di diritto dell'Unione Europea, sono abituato ad avere a che fare con gli studenti, non insegno, metto in condizioni di imparare e di fronte all'ondata attuale di ignoranza di quello che fa l'Unione Europea mi sono detto beh salvaguardiamo la mia materia, il diritto dell'Unione Europea ma salvaguardiamo anche l'interesse degli italiani a stare in Europa in modo autorevole ottenendo i vantaggi che dall'Unione Europea derivano. Le priorità nel caso fosse eletto su cosa si impegnerebbe da subito? Allora sanno forse i telespettatori che dall'Unione Europea arrivano molti danari, molti danari che servono a sviluppare opere in Italia e la pubblica amministrazione italiana non è particolarmente adeguata a attuare queste politiche quindi una prima priorità dovrebbe essere quella di modulare la pubblica amministrazione nazionale, non dell'Unione Europea per cercare di dare applicazione migliore. Ma poi bisognerebbe fare anche una scelta, lo dico in poche parole, di questi fondi che non devono andare a finanziare la Canottieri, Abruzzo, i campionati mondiali di schermo in Sicilia dovrebbero andare a finanziare opere strutturali, infrastrutturali, creare lavoro in Italia e a questo scopo anche aumentare il PIL italiano. Qual è la sua posizione rispetto alle grandi infrastrutture come la TAV, come Piedemontana, come la Transit? La nostra posizione e la mia come più Europa è che ovviamente bisogna fare, bisogna sviluppare, ampliare la mobilità, ampliare i trasporti quindi siamo favorevoli nei limiti della ricerca scientifica che sappia dare contezza dell'utilità di questi corridoi. Parola d'ordine della sua forza politica è sempre stata diritti, in che senso e con quale applicazione in Europa? Sì, attenzione, diritti a cui fa fronte responsabilità e doveri. Nell'Unione Europea ci sono dei trattati che la disciplinano, tra questi trattati c'è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che è a vantaggio e a tutela delle persone fisiche ma anche delle persone giuridiche e dei privati. Dico solo brevemente che questa carta ha cinque capitoli, dignità, libertà, egalità, fraternità, cioè libertà, uguaglianza e fraternità, la declinazione attuale della fraternità e la solidarietà. Poi c'è la cittadinanza, la persona fisica, l'uomo che circola nell'Unione Europea, il cittadino dell'Unione Europea gode di questi vantaggi ma, e torno a quello che dicevo all'inizio, a questo fa fronte responsabilità. I diritti costano, bisogna sviluppare l'economia e così si sviluppano i diritti, specialmente i diritti sociali.